Sì, perché sono incivili Ma poi come li avete risolti? Semplicemente non glielo date Altrimenti compriamo due appartamenti, scusami Effettivamente se dai le chiavi a Ginger Rischi di trovarti palestrati Che vanno in giro a pisello all'aria per casa Hai capito qual era il mio problema? E c'è da lamentarsi? Eh, appunto Dipende dai gusti però, eh E poi comunque in ogni caso che siano maschi o femmine Io non voglio gente nuda in giro per casa Anche io non voglio, infatti Ma se sei single la cosa non è male Sì, ma se c'è qualcuno che vive con te, scusa Scusa, che schifo Vado a prendermi un succo di frutta e mi trovo una banana rosa Di faccia, no? No, non mi piace Mi intino per raccogliere un ghiacciolo E' la fine, dopo Andate proprio a abitare nel quartiere, è quello più ricco Eh sì Ma ve lo permettete? Mi ha fatto il di... No, questo non l'ha capito Ma questo... No, armato Comunque c'è gente Perfetto, possiamo andare Che incivile Bastiano Ormai è andato via Scusa, Lisa, eh Ma che incivile è quello? Eh, pure mi ha andato via, proprio Mi ha andato a fanquario Eh, quello volevo dire Non si vuole dire Eh, attento Eh, niente Io te lo dico, Lisa, eh Perché È giusto che tu lo sappia C'erano anche loro Praticamente Quando Ginger ha fatto l'articolo del pazzo sul ponte Ci sono alcune fan Ragazze A me non dovresti dirglielo Eh no, glielo dico Perché potrebbe succedere Che ne incontriamo una Tipo prima abbiamo incontrato Sta matta Bruttissima Confermate? Tutta pestata Sembrava... Poverina Poteva avere bisogno Magari Secondo me no No, non aveva bisogno Cioè aveva un bisogno Però non era... No, no, non si dice Armazzo Sembrava avere Cosa stai cercando di dirmi? Sto cercando di dirti Che praticamente Che se esco di casa Potrei trovare il tuo fan club Le armattine No, non c'è un fan club C'è solo qualche ragazza Beh, diciamo che il club Le bambine di armazzo Non mi dire che la casa è questa Ti prego non mi dire che è questa Perché non ti piace? No, questo era un altro ragazzo Non era nessuna No Oh no No, Ginger Che cazzo mi prendi? No, 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 no Sta parlando con Diego Vero Diego? Chi è Diego Armatto? No, eh Armatto Puoi andare a vedere un attimo La casa per cosa sia? Ci sono le telecame Ci sono le telecame E intanto sono le nostre Ginger, fai una foto alla casa Che devo capire bene se è bella Vai, Ginger Guardare Armatto Sai che la riempi di botte Ok, vieni con me Iris Eh, dove andiamo? Ma io non voglio te Voglio Ti è armato Vieni Oh, sì Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Sai che succede il panico? Se ti avvicini un'altra volta Quanto è vero che mi chiamo Lisa? Lo santo se te la faccio vedere Ah, 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 ma tu sei bella lì da dentro No, scusa Vagga Parisci E' eccessivo Me ne va Aspetta Lisa Sì? Armatto E' eccessivissimo Armatto? L'ho anche investita Armatto, no È ancora ai piedi, incredibile È una coriacea, eh Mamma mia Dai, vediamo quanto costa, Lisa Vieni Allora Oh, Lisa Eh Ottantamila Lo so, lo so Era la mia prima scelta E poi tu mi hai convinto a comprare quella baracca fuori città Beh, fino a che Aveva, fino a guadagnarci i soldi Andava bene Ok Pure la piscina Lo so Lisa Mi dai i tuoi diecimila? Eh, certo Allontanatevi per favore Sì, prego, prego Grazie mille Ok Dunque, diecimila Perché solo diecimila? Te l'ho detto che ho fatto quel colpo, no? Sì Eh Ognuno mette in base alle sue possibilità Sto cercando di darteli ma non ci riesco Da me, veni dai dopo, dai Non fa nulla, andiamo No, no, no Voglio darteli, davvero Aspetta, ti sto appiccicata così, va bene Scusa Ecco Non funziona Aspetta Ah, sono stupida Ecco qua Ok, grazie Lisa Sono arrivati Gentilissima Sì Mi sembra bellissima, no Lisa? Mettetevi in posa Mettetevi in posa Sì Ok, vai Ma non fa nulla Poi lo ritoccano Tranquilla Fai fatto, fatto, fatto Senti bellissima Ok Lisa, entriamo? Va bene È il numero uno, eh Entrate, prego Ma devo scrivere chi sono? Ma è cronomi Non scrivere nulla Chi se ne frega Sì, io sentiego Ma vabbè Beh, direi che qui abbiamo fatto un bel salto di qualità, eh Ma è la scatola di quella Fa più very much Eh, direi Oh, volete sedere? Penso che si possa, eh Vediamo un po' Ah no, si possono fare delle scommesse Beh, no, dai Addirittura Si può fumare No, la devo girare tutta, tutta No, questa casa è stupenda La voglio anch'io No, vi invidio troppo Trova un riccone Te la fai comprare Va bene? Dobbiamo festeggiare Venite qua Venite qua Festeggiamo Oh, dove andate però? Oh, guarda questo dipinto acquoso, Lisa È una cascata È bellissimo Una cascata Ah, tua madre è una cascata Ma c'è la camera per me? E quest'arte, mamma mia Beh, credo ci sia una camera per tutti, effettivamente Oh, mio Dio Questa è la main room È meravigliosa questa camera Festeggiamo Ma fai pure la piscina Ma ti stai facendo le pip No Per favore, non è la mia camera da letto Ok? Sbacciamo Sbacciamo Sicuramente al piano di sotto ci sarà la camera da letto di armato Vediamo un po' Perché tu spruzzavi e io mi sono coperto Ho capito, però perché la camera da letto di armato non dormite insieme? Eh, quanto pare no No, scusa, ma è sbagliato questo È sbagliato, Lisa Cosa è sbagliato? Come faccio ad inzuppare il biscottino se non dormiamo insieme? Vabbè, vengo a inzuppare C'è uno studio Tu dormi nello studio E non c'è neanche il divano Vado a riposarmi che sono stanchissimo Cos'è cassa, metti, prendi? Ah, è tipo... Come si dice? Un inventario della casa È una cassaforte Ma dov'è? Qui? Così? Questa situazione delle rimiratrici deve finire però, eh Allora? Eccolo! È lui, ragazze! No, ragazze, nulla Allora, non si può Su che? Eh, su... Non te lo dico Su Twitch? Sì, su Twitch E tutte le ragazze di questo bellissimo paese Aspetta un attimo Dai, non ci credo che avete iscritto a quel sito Vabbè Sì, continui, continui Eh, quindi... Eh, quindi... Per favore Ti prego, vieni con noi Ti portiamo... Siamo tutte qui Vogliamo... Cioè, abbiamo visto la dichiarazione Quanto romanzo Allora, mi rovinate il rapporto Io devo pipare Non voglio pipare con te Che sembri... No, perché no? Sono bellissima La mia professoressa è di italiano Vai via! No! Io ti posso insegnare tutto No! Che palle No! Sì, io... Eh, ho capito...